Quest'anno ci ha sorpresi, ha cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di lavorare. Siamo al vostro fianco con il sostegno a famiglie, lavoratori dipendenti, liberi professionisti e imprese per rispondere alla sfida della digitalizzazione, dell'innovazione e dello smartworking. Ci siamo messi in gioco insieme e siamo pronti a ripartire. Costruiamo un'Italia nuova per le generazioni di oggi e di domani. Un aiuto per partire di nuovo tutti. Grazie.